Sì, è sempre una bellissima esperienza essere qui con tutti gli amici dell'immobiliare.com come ogni anno ci ritroviamo, si sente già dalla confusione che abbiamo intorno che la sala è bella, piena di persone che partecipano con entusiasmo come tutti gli anni ormai sono 12 anni che stiamo insieme con l'immobiliare.com in qualità di partner tecnologico e questi eventi di incontro sono sempre ben accetti perché sono quelle poche ma importanti occasioni in cui finalmente possiamo stringere mani e riabbracciarci con tante facce vecchie ma anche tante facce nuove di tutti quelli che sono le nuove agenzie e i nuovi agenti che sposano un po' quella che è la filosofia appunto del network dell'immobiliare.com e noi come sempre siamo al loro fianco con le nostre soluzioni tecnologiche partendo da Gestim con il gestionale a tutti i vari siti internet e quindi siamo veramente entusiasti di essere come sempre qui speriamo che tutti abbiano avuto modo anche di prendere i nostri gadget e così via e che magari chi di loro non ha avuto ancora modo di interfacciarsi con Gestim e con i nostri consulenti abbia modo di farlo a breve. Per il 2023 abbiamo tante novità tante novità che aspettano noi tutto il nostro team ma che poi aspetteranno voi anche perché avremo un piano di rilascio graduale di alcuni aggiornamenti di Gestim che già si vedranno in primavera sono cose su cui stiamo terminando di sviluppi proprio in questo momento e poi avremo delle grosse novità alla fine dell'anno però non voglio spoilerare troppo perché altrimenti poi perderemo tutto il gusto a quel punto quando nei prossimi eventi che magari ci saranno a livello di incontro sia fisico che virtuale magari con i webinar, con degli incontri, con dei meeting online andremo a fare tutta una serie di presentazioni di quelli che sono i nuovi progetti in casa di Gestim che daranno sicuramente nuove potenzialità e nuovi strumenti e nuove funzionalità anche a quelli che sono tutti i partner e i member del network dell'immobiliare.com che utilizzano oggi le nostre soluzioni. Grazie a tutti!